Mario Sospizio e Lorenzo Pittiglio scrivono per la terza volta il loro nome nell'albo d'oro del Rally di Pico. Con una straordinaria condotta di gara la coppia Ciociara a bordo di una performante grande punto Super 2000 della Turbo Car, hanno vinto la 33esima edizione del Rally di Pico. Salutiamo anche il Sospizio, un grande applauso per lui, un pilota molto valido. Abbiamo fatto una bella gara, non ci siamo risparmiati fino alla fine, e spero che la gente sia divertita in piazza e terrata, spero che la seconda posizione se la sono aggiudicata la coppia formata da Marco Rossi e Michael Antonucci su Mitsubishi Evo 9. Risultato invece straordinario per Marco Roma e Francesco Bruni, che hanno ottenuto un terzo posto assoluto con una Renault Clio RS Light. Chiusa la 33esima edizione del Rally di Pico, il Comune di Pico si prepara alla realizzazione della 34esima edizione. Salve, mi conoscerete ormai tutti, sono il Presidente del Comitato Organizzatore del 34esimo Rally di Pico, e volevo ringraziare tutti gli equipaggi che parteciperanno a questo rally. Il mercoledì 5 settembre ci sarà la presentazione della 34esima edizione del Rally di Pico, e nello stesso tempo ci sarà anche la manifestazione legata a Miss Rally 2012. Ne approfitto per imitare tutti gli equipaggi e non solo, anche tutti gli appassionati di questa disciplina. Una cosa che sta molto a cuore al sottoscritto e al Comitato Organizzatore è la sicurezza, e ne approfitto per fare un invito e un appello a tutti gli appassionati di ascoltare tutto ciò che gli verrà detto dai commissari di percorso e dalle forze dell'ordine, proprio perché loro devono stare in sicurezza, e quindi mi raccomando non so stare nelle zone vietate al pubblico. Un ringraziamento a tutti i sostenitori di questa manifestazione, nonché agli sponsor. Un grazie a tutti e ci rivediamo al prossimo servizio. L'appuntamento è fissato per 8 e 9 settembre 2012. Lo scenario principale sarà come di consueto il comune di Pico, mentre gli attori saranno i numerosi piloti, fra cui spiccano già nomi molto importanti, fra cui Tonino Di Cosimo, Mario Solpizio, De Santis Graziano, Pagnozzi Nicola e tanti altri nomi, che come sempre, con grande entusiasmo, professionalità, ma soprattutto con grandi sacrifici, accenderanno i motori pronti a regalare emozioni a tutti gli appassionati di questa disciplina. Quando si parla di rally di Pico, salta alla mente la prova speciale Greci-Pico, che da Sant'Oliva, Ponte Corvo, si arrampica su un percorso impegnativo, fatto di curve strette e tornanti, nella località denominata Dei Greci. Salendo, nel corollario del parco dei Monti Aurunci, si arriva nel territorio del comune di Pico, e dopo una lunga discesa tortuosa, Lo scenario è da togliere il fiato. Centinaia di persone, che incitano i concorrenti con applausi, ovazioni, mentre i flash accecanti delle macchine fotografiche immortalano momenti unici. Si sta percorrendo la piazza principale del paese, Piazza Ferrucci, il luogo che tutti ci invidiano e che ogni anno raccoglie decine di centinaia di spettatori che nella notte accorrono per ammirare questi boli di all'opera e per respirare l'atmosfera unica del rally di Pico. Prova altrettanto impegnativa, si svolge nel comune di Pofi, mentre dopo qualche anno di assenza si ritorna a correre nella così tanto attesa prova speciale di Ponte Corvo, nella località di Melfi, teatro di molte sfide negli anni passati. L'assistenza ed il riordino saranno ubicati presso un noto centro commerciale a Piedimonte San Germano. Approfittiamo di questo video per ricordare a tutti gli spettatori di rispettare le zone indicate dall'organizzazione per la massima sicurezza nello svolgimento della gara, nel rispetto di loro stessi e soprattutto dei piloti che ne prendono parte. A voi qualche immagine della scorsa edizione. Grazie! Now I know how to get down on the floor Experiencing moves, you can't ignore But something about this beat, that's got me Come on now! Get close to love No, 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 no Grazie a tutti 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 Grazie a tutti